Con Faricoltura Arezzo ha voluto donare questa somma ed è stata molto felice di farla alla misericordia di Arezzo per due principali motivi. In primo luogo perché sono risorse del territorio che restano sul territorio a favore delle persone più bisognose e in secondo luogo perché il rapporto tra enti di beneficenza e mondo agricolo sono sempre nella storia stati andati d'accordo e quindi vogliamo rinsaldare questo legame. Un assegno da 15.000 euro destinato alla misericordia è la cifra donata da Confagricoltura per sostenere l'attività al servizio della comunità portata avanti dall'associazione. Affinché si possano realizzare progetti di assistenza sanitaria faremo l'infermiere di comunità, l'infermiere di misericordia. L'intervento con l'autombulanza, con la sirena, con l'aiuto al ferito nel 118, nel 112 è un volontariato di azione. Noi ora svilupperemo sempre di più un volontariato di relazione cioè incontrare le persone, sostenerle e stare vicino. Insomma la carità e la misericordia che ha caratterizzato sempre la storia della città di Arezza noi lo concretizzeremo grazie anche a questo grande sostegno che la Confagricoltura ha donato alla misericordia. Una donazione che ha aperto il convegno Istituti di Beneficenza e Mondo Agricolo nella storia del nostro territorio ospitato nella sala conferenze del Palazzo di Fraternita. Gli enti assistenziali possono essere considerati un colpo di genio della società medievale quasi a voler prendere la decisione che tutto l'insieme del corpo sociale doveva essere salvato. Le terre ricevute in donazione o acquistate sempre attraverso testamenti o lasciti costituivano la base economica perché producevano beni alimentari e al tempo stesso venivano inserite all'interno del mercato dei generi alimentari producendo così una ricchezza che serviva poi per finanziare tutti gli interventi. Era una sorta di circuito che dal dono diventava a sua volta dono. Oltre alla donazione anche una speciale etichetta celebrativa per il vino della Fraternita dei Laici dove campeggia l'immagine di Pietro Leopoldo.